No Simone, il fatto è questo, il potere contrattuale, cioè non esistono entità non statali che abbiano un potere contrattuale simile agli Stati Uniti, o alla Cina o alla Russia, non c'è. Amazon non può, se gli Stati Uniti decidono che non hanno bisogno di Amazon e che anzi Amazon è un pericolo per gli Stati Uniti, Amazon non può farci niente, anche se non bisogna guardare i privati, le ricchezze che hanno, ovviamente perché noi siamo privati quindi tendiamo a giudicare la ricchezza dei privati come fondamentale, però non funziona così il mondo, le relazioni non funzionano in questo modo, ci sono, quello che conta è il potere, e il potere è dovuto soprattutto alla forza, cioè non esistono Amazon, non ha nessuna portaerei, Google, non ha nessun esercito, Apple non ha bombi atomiche a disposizione, quindi il potere contrattuale è davvero minimo, ma pure uno Stato come la Cina non ha un potere contrattuale tale per esigere dagli Stati Uniti che il debito venga pagato, il debito pubblico venga pagato, se gli Stati Uniti, non lo faranno però, se gli Stati Uniti domani decidessero che il debito pubblico noi non lo paghiamo, la Cina non potrebbe fare molto, eh? Quindi davvero considerare il, cioè il fattore economico è solo uno dei tanti fattori, è il fattore più importante, è quello che fa più presa sulle persone, perché alla fine fa le persone più che l'ideologia, più che, pure più che la patria, più che qualsiasi cosa, conta soprattutto il denaro alle persone, e quindi fa molta presa su di loro e magari credono che il mondo funzioni in base al denaro, ma non è così, il mondo funziona in base al potere, il lato economico è solo una forma di potere che fa molta presa sul popolo. Non è solo questo, ovviamente, ma è anche questo, eh? Il vero potere, quello che conta, è quello... è quello vero, effettivo, cioè il potere che... sono le armi. Ad esempio se tu stai giocando a poker con una persona che ha una pistola e che è dietro di sé due guardie con il mitra, tu vinci a poker, te la senti di fargli notare che ti deve dare i soldi. Così che funziona. Non so, questo libro sembra bello, eh?